Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate, tornando la sera, il cibo caldo e visi a buci, considerate se questo è un uomo, che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no, considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate, che questo è stato, vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli, o vi si sfaccia alla casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Con questi versi, con queste parole, si apre se questo è un uomo di Primo Levi, un romanzo che è un romanzo memoriale, è la storia di Primo Levi che, giovanissimo, scappa in montagna, perché vuole diventare, vuole unirsi ai partigiani e viene, in realtà finisce insieme ad altri ragazzi, isolato in una cascina su in montagna, viene catturato all'alba e il timore di essere passato per le armi come partigiano dice, no, io sono scappato qui solo perché sono ebreo, non sa che è molto peggio, viene caricato, viene portato prima a Fossoli, poi viene caricato sui treni che ora conosciamo, tristemente famosi, i treni della deportazione e trasferito in un campo di sterminio dalla Suizia, alla Bum. Il racconto di Primo Levi, intanto c'è proprio la storia editoriale di questo, questa è la prima edizione, la prima edizione delle Inardi e non la prima edizione del libro, perché nella storia editoriale di questo volume, di questo libro c'è racchiuso proprio anche un po' il senso di questa memoria novecentesca piuttosto complessa, nera, piuttosto difficile da metabolizzare, perché Primo Levi quando torna a casa, a finire del 1945, lui comincia a scrivere subito, vuole subito raccogliere le idee, non vuole assolutamente perdere un momento, non vuole soprattutto dimenticare e quindi scrive, scrive e quando dopo un anno e mezzo riesce a chiudere nelle pagine la sua memoria recentissima dell'orrore dei campi di sterminio, delle camera gas, di quella fatica che da pagina a pagina vi entra dentro le ossa ed è una fatica legata al freddo, alla fame, alle condizioni inumane, alla dimensione, proprio a quel dormire nelle cucciette a due a due, teste, piedi, abituandosi all'odore tuo, che non è più l'odore solito, è all'odore dell'altro, abituandosi alla cancellazione di ogni principio di convivenza civile, lasciando che la soprafazione diventi una regola, ecco in questa dimensione che in qualche modo schiaccia chi legge e lo fa sentire a sua volta aggravato del peso non delle parole, ma della fatica proprio fisica, leggendolo si prova freddo, leggendolo si affame, leggendolo si cammina con il passo appesantito da quella fatica immane e da quella maledizione innaturale che si portano addosso tutti quelli nei campi di sterminio, abituarsi alla morte degli altri e alla propria morte, a diventare quasi indifferenti, l'indifferenza non c'è mai, però ecco in queste pagine, cioè queste pagine lo dicevo all'inizio, la storia proprio editoriale di questo volume è la storia di Primo Levi che arriva alle Inaudi nel 1947 e propone il volume, il volume verrà pubblicato nel 1956, la prima edizione è di dieci anni dopo, all'inizio l'Inaudi è quella di Calvino, della Ginzburg, ma all'inizio Primo Levi deve pubblicarsi il romanzo da solo, I sommersi salvati, generalmente si chiamava così, e che in qualche modo tiene conto della, era un chimico Primo Levi, tiene conto della sua propensione scientifica e per cui in qualche modo fa un'analisi sistematica dei tipi umani, dei tipi umani che in qualche modo sono racchiuse all'interno del microcosmo del campo di sterminio, ma che in qualche modo riflettono una dimensione umana più vasta, ci sono delle analogie col mondo altro, è però un mondo che ormai è lontano, di cui si è persa nozione, perché quello che sta succedendo è qualcosa che è piombato nel suo orrore dentro la normalità. E allora la riflessione che viene da fare, perché ci si dice, ma scusate, ma come poteva essere che la gente riuscisse a permettere tutto questo, che gli abitanti lì, i polacchi di attorno, non sapessero, come poteva essere che gli americani non sapessero, come poteva essere che... e questa è una domanda che non dovremmo rivolgere a quelli che abitavano nei villaggi vicino, prospicenti le reti elettrificate che dividevano i deportati dal mondo, dall'altro mondo. Piuttosto questa è una domanda che potremmo rivolgere a noi stessi, potremmo... perché ci si dice, perché nella quotidianità, nella normalità, nelle nostre vite di colpo piomba quella roba lì? Cioè di colpo ci ritroviamo a fare i conti con un orrore che è sovrumano, che è qualcosa che non riusciamo ad annettere alla possibilità che è dell'uomo, che è nostra, quindi. Potremmo noi mai infierire in quel modo? Potremmo noi essere mai partecipi di quella macchina della morte? Ecco, quando facciamo questa domanda, la facciamo con tono accusatorio rivolti appunto a chi viveva all'epoca, a chi ha visto partire treni piombati, forse potremmo continuare a rivolgere anche a noi, proprio perché l'orrore è qualcosa che parte, prescinde dal dato statistico. Io credo che in una guerra non sia fondamentale il numero dei morti per determinare il grado d'orrore, una gerarchia dell'orrore. C'è stato il confronto della fine degli anni 90, del 900, nella metà degli anni 90 e 900, il confronto politico alla caduta del muro di Berlino, il confronto politico tra destra e sinistra, un confronto politico sui regimi novecenteschi e sugli esiti nefasti, negativi, e c'erano libri, c'erano libri che facevano il conto dei morti, quasi che aver fatto dieci morti in più si era più cattivi. Basta un morto solo, l'orrore sta in una morte sola, in una morte sola per una morte sola violente, una morte sola di intrincea, una morte sola all'attacco di qualcosa, senza sapere perché muori, perché quella, perché la guerra, perché ci hanno mandato, è ancora peggio, senza sapere perché muori soltanto perché hai un cognome diverso da quello del tuo vicino. Beh, quella domanda avremmo potuto continuare a farcela con tutti i conflitti che ci sono stati poi in seguito, ma forse nell'orrore, orrore per orrore, possiamo continuare a farcela facendola incombere sul vostro presente. È una domanda che potremmo continuare a farci, ma che possiamo farci oggi ancora di più, vedendo le immagini di persone al confine con la Bosnia, un confine qualsiasi, sono migliaia di scenari che potremmo proporre, uomini a piedi nudi che si addormentano nella neve, bambini che muoiono a poche ore dalla nascita, al freddo. Succede ora, succede adesso. Mentre, come il corvo di una poesia di Edgar Allan Poe, avremmo dovuto continuare a ripeterci, partendo dalle volevo dire, che ti ho potremmo dovuto continuare a fare le spazio che si tratta di